Sialo dato, Gesù Cristo. Mi piacerebbe riassumere le letture che abbiamo ascoltato con una parola. Con una parola che è abbondanza. Abbondanza perché se abbiamo prestato attenzione alla prima lettura, vediamo come gli esploratori che vengono mandati nella terra promessa si rendono conto di quanto bene, di quanti beni della terra, di quanta ricchezza questa terra offre loro. Se abbiamo ascoltato bene, la frutta, quel grappolo di uva che loro portano a Mosè, è così grosso da dover essere trasportato da due persone. È un grappolo di frutta veramente enorme, proprio a dire l'abbondanza dei doni, la ricchezza che la terra che Dio ha promesso al popolo di Israele aveva effettivamente da offrire. E l'abbondanza è un tema che ritorna anche nel Vangelo di oggi, nel Vangelo di questa domenica. Colpisce il numero 7, ritorna più volte, colpisce il fatto che questa folla, una folla grandissima, che da tre giorni segue Gesù, e sembra quasi di capire che in questi tre giorni di cibo ce ne sia stato poco, al punto che Gesù capisce che la cosa più urgente è dare da mangiare a queste persone che sono state con lui, che lo hanno ascoltato, che gli sono state vicine. Ma i discepoli giustamente dicono come è possibile, abbiamo sette pani, e sette è un numero importante, è un numero importante nella scrittura, perché sette è il numero che dice la pienezza, dice una perfezione, dice l'abbondanza appunto. Però davanti a una folla così grossa, sette pani sicuramente non sono sufficienti. E allora interviene la grazia di Dio, interviene Gesù, che chiede di poter avere a disposizione queste sette pani, e da questi pochi pani riesce a dare alla folla il necessario per poter tornare a casa, riesce a dare abbondanza di cibo a quanti sono lì con lui. Certo, è un evento straordinario, è un evento che è accaduto in quell'occasione, che forse noi durante la nostra vita non vedremo mai qualcosa di simile, però il Signore anche a noi offre la possibilità di moltiplicare qualcosa, offre la possibilità di moltiplicare i nostri sette pani. Bisogna capire quali sono questi sette pani. Ognuno di noi ha a disposizione qualcosa, qualcosa di grande, qualcosa che è già dono di Dio. Il Signore offre con i frutti della terra e del lavoro dell'uomo la possibilità a questi uomini di avere quel poco cibo che avevano con loro. E così penso che il Signore a tutti noi offre la possibilità di avere dei doni, dei doni che sono ciò che ci caratterizza, le nostre capacità, i nostri pregi, le nostre abilità, le nostre tante caratteristiche che sono qualcosa di prezioso, qualcosa che magari non tocchiamo con mano come del cibo, ma è qualcosa di veramente prezioso. Ecco, a noi rimane la grande sfida di fare proprio come questi discepoli. i discepoli si rendono conto di avere quei beni, quei pani, quel cibo. È poco. È poco, ma è già grazie di Dio. È già un dono che fa loro. Ed è un dono che i discepoli vogliono ridonare e mettere a disposizione. Lo mettono a disposizione di Gesù e Gesù da quel poco riesce a fare tantissimo. Riesce a sfamare una folla che l'Evangelista Matteo ricorda essere di 4.000 uomini più le donne e i bambini che non vengono nemmeno conteggiati. Ecco, penso che il Signore possa fare altrettanto con noi. Ce lo promette. In fin dei conti ce lo promette perché, come dice l'Apostolo nell'Epistola di questa Domenica, Gesù moltiplica ciò che, appunto, ciò che già c'è, Gesù fa abbondare in noi la grazia. Allora chiediamo in questa celebrazione la grazia di saper capire quali sono i nostri sette pani, quali sono quelle caratteristiche belle, quei beni preziosi che il Signore ci ha dato e che noi possiamo mettergli a disposizione, possiamo affidargli, perché da questi nostri piccoli doni possa fare tanto, possa sfamare la folla che è composta dalle persone che ci vivono accanto, che giorno dopo giorno incontriamo qui nella nostra parrocchia, tra queste panche, nella vita di ogni giorno. Perché, appunto, il Signore, ci ricorda San Paolo, ha il potere di far abbondare in noi la grazia perché non ci venga a mancare il necessario, perché non venga a mancare a noi e perché non venga a mancare alle persone che ci sono cara, alle persone che ci sono accanto. Chiediamo quindi la grazia di capire quali sono questi doni da mettere a disposizione e chiediamo al Signore la grazia e il desiderio di essere generosi perché questi sette doni, questi sette pani, i discepoli avrebbero potuti tenerli per sé perché in fin dei conti era abbastanza per loro ma la generosità loro, la generosità che anche a noi viene chiesta è quella di mettere a disposizione tutto ciò che noi abbiamo, tutto ciò che di noi può aiutare il prossimo a crescere, ad essere felice perché appunto il Signore possa moltiplicare quanto noi abbiamo e possa sfamare, possa rendere persone capaci di camminare, di proseguire il cammino, tutti coloro che giorno dopo giorno ci sono accanto. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.